La ferita non sembra molto profonda, però questa volta sei stato sconsiderato. Sei coraggioso, ma non sei immortale. Sai, gli attacchi da parte dei mostri sono aumentati e queste creature diventano sempre più spaventose. Temo che questo sia un presagio in fausto del ritorno della calamità. Dai, su, sbrighiamoci. Dobbiamo essere pronti al peggio se vogliamo evitare di farci trovare impreparati.